benvenuti in questo corso vi parlerò di scratch tecnologia realizzeremo alcuni progetti che hanno come tema la carta i tipi di materiali e ci sarà anche un progetto dedicato alla piramide alimentare questo corso è indirizzato gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado svilupperemo dei progetti reali che hanno l'obiettivo di far acquisire anche dei concetti di logica infatti imparare a usare le istruzioni condizionali e quelle iterative consente agli studenti di poter creare tanti progetti più o meno complessi attraverso una didattica innovativa cerchiamo di offrire agli insegnanti nuovi mezzi per valorizzare le capacità di ogni studente spero che possiate trarre spunto da questi progetti in modo tale da poter proporre la programmazione blocchi come supporto nella didattica